però scusa il modo che ho fatto un macello per organizzare a trovare gli incontri di sistema tutto ma che fa sistema che non si sistema più cazzo non si sistema più cazzo stavamo battendo insieme e poi l'ho ammazzato non si sistema pure questo eh 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 mi saio non 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 non